Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ecco a voi 10 curiosità su Zayn Malik. 1. Prima di diventare una celebrità, Zayn Malik scriveva il suo nome con la i normale. Nome che in arabo significa bello. 2. Zayn non sa nuotare e dà la fobia dell'acqua. 3. Dopo Harry, era il secondo membro dei One Direction più tatuato, con 34 tatuaggi. 4. Prima di salire sul palco si spazzola i denti. È una sorta di scaramanzia prima dello show. 5. È un fan della saga di Harry Potter. 6. Il suo profilo Instagram conta più di 29 milioni di seguaci. 7. Zayn, nel tempo libero, ama disegnare e ha una grande collezione di fumetti. 8. Quando era studente, le sue materie preferite erano, arte, inglese e teatro. Infatti, pare che se non fosse diventato famoso, sarebbe voluto diventare professore di inglese. 9. Per l'album Mind of Mike, Zayn, si è ispirato a fatti realmente accaduti della sua vita. 10. Nel 2016 si è posizionato al quinto posto nella lista degli uomini più sexy della rivista Glamour. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, e iscrivetevi al canale. Grazie per l'attenzione.